E' morto questa mattina all'ospice dell'ospedale maggiore di Modica Severino Santiapichi, uomo illustre ciclitano, presidente della corte d'assise del processo dell'omicidio Moro. La salma adesso si trova nella sua casa di Donna Lucata. Vertenza dopo scolisti. Dopo il pensiero dell'ex sindaco di Modica Carmelo Ruta, oggi ad MTG parla l'ex sindaco di Modica Piero Torchi. Torchi esprime il suo pensiero in merito alla scelta portata avanti dall'amministrazione comunale di Palazzo San Domenico. I cittadini ciclitani saranno chiamati alle urne il prossimo 13 novembre per eleggere il sindaco e il consiglio comunale della città. Il ministro Angelino Alfano ha firmato il decreto per il turno straordinario delle amministrative nei comuni sciolti per mafia. E' tutto pronto per l'addio all'estate a Marina di Ragusa. A partire dalle 22.30 la diretta è in monovisione condotta da Salvo Larose e Carmela Minardo da Piazza Duca degli Abruzzi. A mezzanotte tanto atteso concorso di pochi pirotecnici. 16 minuti dopo le 14 siamo tornati in diretta con una nuova edizione del nostro telegiornale. Benvenuti a tutti i nostri telespettatori. Lo avete ascoltato dai titoli. Apriamo questo telegiornale con la triste notizia giunta alla nostra redazione in merito alla morte del giudice Santiapi, che è morto alle prime luci dell'alba di oggi e nell'ospice di Modical, vicino all'ospedale Maggiore. La Salma già si trova nella sua abitazione di Donna Lucata. Uomo illustre, sciclitano, ex presidente della Cassazione e magistrato del processo Moro. Il ricordo del giudice Santiapi, nelle parole del direttore Catiuscia Carpentieri. Aveva compiuto 90 anni il 29 maggio scorso. Severino Santiapi, ex presidente di Cassazione, nato a Donna Lucata, dove viveva con la sua famiglia, è morto alle 6.50 di questa mattina all'ospice dell'ospedale Maggiore di Modica, dove era ricoverato da qualche giorno. È stato magistrato e scrittore, uomo illustre, sciclitano, presidente della Corte d'Assise per circa 20 anni e per 7 vicepresidente della Corte Suprema in Somalia. Divenne famoso al grande pubblico per il processo agli esponenti delle Brigate Rosse sul sequestro Moro, celebrato nell'aula bunker del Foro Italico di Roma e conclusosi con 32 ergastoli. Celebro tantissimi processi di terrorismo negli anni Ottante e anche il processo all'attentatore di Papa Giovanni Paolo II nel maggio del 1981. Procuratore ad onorem della Corte di Cassazione ricevette lo scorso maggio, in occasione del suo novantesimo compleanno, gli auguri del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che scrisse la sua fermezza e la sua competenza hanno rafforzato, in momenti molto difficili della nostra storia, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e nella giustizia. Dopo il pensionamento, per raggiunti limiti di età, si era ritirato nella sua amata Donna Lucata, ha continuato ad essere sempre protagonista, ricoprendo ruoli istituzionali di pregio, dedicandosi alla scrittura ed insegnando nell'Università Core di Enna. Tra le opere più famose, Romanzo di un paese, La Iena della Savana e Il Serpente Gioiello. In quest'ultima opera ha parlato del mestiere di magistrato, delle difficoltà che si trova nell'applicare le leggi. La salma di Severino Santiapichi si trova nella sua casa di Donna Lucata. Torniamo a parlare della vertenza dei doposcolisti e del personale addetto alle attività integrative del Comune di Modica, perché dopo aver chiesto il punto di vista all'avvocato Carmelo Ruta, ricordiamo ex sindaco di Modica, oggi abbiamo invitato nei nostri studi l'ex sindaco di Modica, Piero Torchi. Ascoltiamo l'intervista. Il problema che oggi deve forse un'amministrazione, qualsiasi amministrazione, soprattutto se vuole dare un'impronta manageriale alla propria attività, è quella di valutare il rapporto tra costi e benefici. Esiste un beneficio rispetto al costo che sostengo? Adesso la domanda è, c'è necessità di razionare le spese? C'è qualcuno dall'alto che impone, ad esempio la Corte dei Conti, di operare queste scelte? Lo si dica con chiarezza alla città. Ritengo come al solito che la ragione non stia mai per forza tutta dalla parte del bianco, tutta dalla parte del nero. Probabilmente se si avesse, da parte di tutte le parti in causa, la capacità di sedersi attorno a un tavolo, la soluzione mediata e mediana si potrebbe trovare. Senza fare valutazioni circa l'opportunità e la qualità della spesa di chi istituì allora il servizio, anche perché parliamo di dinamiche che risalgono a 30 anni fa. E secondo me oggi sbaglia chi pensa di valutare dinamiche di 30 anni fa con gli occhi di oggi. Erano tempi diversi, era una politica diversa, erano anche comuni diversi. Il dato oggi è diverso, è assolutamente diverso, perché ritengo che questo servizio abbia delle condizioni specifiche e particolari che non ci consentono di valutarlo in maniera generalista. Va valutato, ripeto, come ogni servizio nel rispetto dei costi e dei benefici. Poi c'è un dato tecnico, la spiegazione per la quale i servizi è un servizio che costa, è una spiegazione che in un certo senso stride nei termini, tutti i servizi costano. Queste scelte non possono essere dettate né da umori del momento, né da decisioni estemporanee, né da diktat che arrivano dall'esterno. Devono essere mediate e meditate, soprattutto quando in gioco c'è la vita, la dignità e la professionalità di tanta gente. Il contratto collettivo nazionale del lavoro, articolo 32 e articolo 7, tutela questa categoria. Secondo lei quindi questo atto poteva essere fatto? Non stiamo parlando di una causa legale, stiamo parlando di una scelta politica. E quando la politica va in tribunale, la politica ha fallito. Parliamo adesso delle amministrative a Scicli perché è davvero in fermento il clima in città, in quanto ci sono oramai due candidati a sindaco ufficiali, Maria Borgia e Carmelo Vanasia, mentre gli altri partiti iniziano con i tavoli di concertazione. Il 13 novembre Scicli è chiamata alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. La notizia di ieri sera, diffusa dall'onorevole Nino Minardo, che ne ha avuto conferma dal ministro dell'Interno Angelino Alfano, dà dunque un punto di arrivo rispetto alla campagna elettorale che da qui a poco animerà la città. Una data su cui al momento però manca la comunicazione ufficiale da parte della regione siciliana. Il governo regionale, infatti, dovrà dare comunicazione e indicazione sulle date per poi permettere ai candidati di fissare i comizi elettorali. Ma date ufficiali a parte, in città si respira già l'area delle amministrative. In Lizza gli unici due nomi tuttora ufficiali sono quello di Carmelo Vanasia e Maria Borgia. Il primo aveva già ufficializzato la propria candidatura nel corso di un incontro a San Pieri che si era tenuto lo scorso 15 novembre. Vanasia ha anche una pagina ufficiale su Facebook dove è possibile anche vedere il simbolo della lista civica con cui concorrerà le amministrative. Il Movimento Politico-Culturale Progetto Civico per Scicli sta già su Facebook pubblicando proposte e idee su come la città debba cambiare. Poi c'è Maria Borgia, una donna, una madre, molto attiva nel campo del sociale. Diverse le battaglie intraprese dalla candidata di Forza Italia, in particolare per la tutela dei diritti dei bambini e dei soggetti deboli. La Borgia, oltre Forza Italia, gode del supporto del popolo della famiglia e della lista civica Maria Borgia Sindaco. Già sul proprio profilo Facebook la candidata aggiorna sulle iniziative di campagna elettorale che sta promuovendo in giro per la città. Discorso diverso per tutti gli altri partiti politici, iniziando dall'Udc, che ha come suo esponente regionale in città Orazio Ragusa. Ancora il partito dello scudo crociato è in fase di concertazione per trovare un candidato che possa dare a Scicli una ventata di cambiamento. Al vaio dei vertici del partito un nome e una squadra. L'onorevole Orazio Ragusa sottolinea la volontà di procedere per le amministrative, ma tuttavia sottolinea come ancora sia presto per potersi esprimere con la massima precisione. Dello stesso parere la senatrice del PD, Venera Padua, che in assenza di comunicazione ufficiale da parte della regione ha sottolineato che il Partito Democratico sta lavorando per dare a Scicli un'espressione politica all'altezza dei problemi da affrontare in città. In fase di valutazione anche su eventuali aggregazioni c'è anche l'NCD. L'onorevole Nino Minardo non si sbilancia, ma chiarisce che il nuovo centrodestra non sta con le mani in mano e che già è al lavoro per creare una squadra politica in città, non escludendo la possibilità di una compagine politica ampia. Minardo, infatti, ha parlato di aggregazione e di nessuna preclusione e che adesso è il momento di assumere scelte precise. Il Movimento 5 Stelle, attivo su Facebook attraverso la propria pagina ufficiale, non ha ancora pubblicato la lista. Il Meetup sta lavorando alla scelta della squadra da sottoporre ai vertici pentastellati e solo dopo il loro parere, con conseguente approvazione, il Movimento potrà presentare alla città la propria lista. Dalle amministrative di Scicli alla politica regionale, perché c'è la volontà da parte di un gruppo della maggioranza di chiedere un rimpasto della giunta regionale. Il punto della situazione è in questo servizio. Governo costantemente sotto esame, maggioranza inesistente in Parlamento e coalizione spaccata. Il quinto e conclusivo anno della legislatura crocetta non comincia certo, con presupposti migliori di quelli degli ultimi anni. Il rientro dalle ferie a Lars è stato a dir poco catastrofico per le forze di governo, affossate ed impallinate su ogni emendamento della manovrina. Sotto scacco, il governatore adesso è vulnerabile, con il fianco esposto verso l'ennesimo rimpasto di governo. A dieci mesi di distanza dall'ultimo, i partiti alleati del PD chiedono nuovamente una maggiore presenza politica in giunta regionale e così le discussioni sul crocetta quinques sono già state avviate. Certamente i democratici non si sono dati grande aiuto con la recente riforma sulla rete ospedaliera. Il taglio da 150 reparti non solo è piaciuto a pochi, ma ha rappresentato per molti il perfetto casus belli per attaccare Palazzo d'Orlean. Tra questi spicca l'Udc di Giampiero D'Alia, che non ha salutato positivamente la riforma. Se questa è la politica sanitaria del governo regionale, ha dichiarato ieri, il nostro sostegno è in discussione. Una perdita che in questo momento la coalizione non può assolutamente fronteggiare e che nei fatti rappresenterebbe un ufficiale e incontrovertibile elemento di non governabilità all'arse. Croce e Terraciti lavorano con Roma per discutere di nuove assunzioni nel reparto sanità, ma intanto il vaso di Pandora è stato aperto. Anche Sicilia Futura ed NCD spingono per un rafforzamento della loro presenza in giunta. I primi sarebbero pronti a raddoppiare, dopo l'assessore Maurizio Croce, proponendo Giuseppe Picciolo. Gli alfaniani, freschi di accordo con i DEM sul referendum costituzionale, punterebbero invece ad un cambio tra il tecnico Carlo Vermiglio e l'ipotesi Nino Germanà. Martedì vertice di maggioranza che si promette in fuocato e nel quale, oltre che di riforma sanità e rimpasto, si parlerà anche di nomine dirigenziali su tutte. Quella per l'aeroporto Fontana Rossa di Catania. Da Palermo andiamo a Palagonia per parlare di cronache. Lo facciamo con un argomento che ha scosso l'Italia intera ieri sera quando si è appreso che un bambino di 18 mesi è morto a seguito della somministrazione del vaccino per la meningite. L'ASP di Catania, in via cautelativa, ha ritirato la somministrazione dell'otto. Il pool di investigatori del NASP sta indagando per capire le reali cause che hanno portato al decesso un bimbo di 18 mesi a Palagonia, a 72 ore dal vaccino contro la meningite. Il bimbo, dopo la somministrazione del vaccino, aveva avuto una febbre improvvisa e avrebbe assunto una compressa di tachipirina, ma alle 3 di ieri notte il bimbo è deceduto tra le braccia dei genitori. Sul posto subito due ambulanze, i cui medici purtroppo non hanno potuto che costa tarne il decesso. Le indagini sono coordinate dal procuratore capo di Caltagirone, Giuseppe Verzera. Devono accertare se la morte sia correlata con la somministrazione del vaccino contro la meningite. Il responsabile del servizio di epidemiologia dell'ASP di Catania, Mario Cuccia, non esclude questa possibilità, ma tiene a precisare che il vaccino è stato somministrato 72 ore prima del decesso. Intanto la procura ha disposto l'autopsia sul corpicino del piccolo per capire se c'è stata una reazione immunitaria prodotta dal vaccino. Sulla somministrazione della tachipirina, dichiara Cuccia, non sappiamo quanto sia avvenuta l'assunzione e nel quale sarebbe stato il livello della febbre. Sarà l'autopsia dunque a fare luce sulle cause del decesso del bimbo. Intanto i carabinieri del NAS, per precauzione, hanno sospeso la somministrazione del lotto che conteneva la fiale iniettata, mentre il tutto è stato segnalato al Ministero della Salute. Per carità non ritorniamo al Medioevo, i vaccini negli ultimi 60-70 anni hanno salvato milioni di vite nel mondo. Attenzione a dare verità che non ci sono. L'ASP di Catania sta approfondendo il tema, il NAS dei carabinieri sta lavorando sodo e l'autorità giudiziaria farà luce sull'accaduto. E' questo il commento dell'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi che è intervenuto sulla vicenda. L'assessore Gucciardi questa mattina è stato in visita a Catania e ha detto chiaramente noi non chiuderemo alcun ospedale. Sentiamo. La rete ospedaliera, secondo i nuovi canoni medico-scientifici, va riprogettata sulla rete dell'emergenza-urgenza. Non è scomparso nulla e respingo le strumentalizzazioni al mittente. Non chiuderemo nessun ospedale e secondo il nuovo modello gli ospedali grandi sono funzionali e indispensabili per i piccoli e viceversa. Lo ha detto l'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi questa mattina all'ospedale Cannizzaro di Catania in occasione dell'inaugurazione della nuova osservazione breve e intensiva. Questo, ha aggiunto Gucciardi, è un obiettivo che ci consenterà ulteriormente di abbattere la mortalità per patologie più diffuse come l'ictus e l'infarto attraverso una rete delle emergenze che consentirà ad ogni cittadino ovunque si trovi di raggiungere nei tempi previsti dai protocolli medico-scientifici il punto dove si possono trattare queste patologie. C'è un lavoro da fare, ha concluso, perché il nuovo modello richiede un impegno tecnico notevole. I direttori adesso stanno provando ad attivare una prima fase che ci consentirà davvero di creare una rete in cui ogni presidio ospedaliero, ha concluso Gucciardi, sia salvo e soprattutto sia complementare all'altro. Da Catania ci spostiamo a Vittoria dove ieri sera si sono registrati attimi di paura e tensione in Via Roma. Momenti di tensione ieri sera a Vittoria in pieno centro. Erano le 19.40 minuti quando una chiamata al 113 ha avvertito che in Via Roma era in corso una rissa. Gli agenti giunti sul posto hanno potuto constatare che invece si trattava di un litigio tra due persone sfociato in una bastonata in testa. Tutto è iniziato nei pressi di una rivendita di tabacchi. Pare che un algerino, controllando il proprio denaro custodito nel portafogli, avesse notato di aver qualche moneta in meno rispetto a quanto ricordasse. A questo punto l'uomo ha chiesto con te ragione al rivenditore. Il vittoriese, dopo un'accesa discussione, non ci ha visto più e gli ha dato una bastonata in testa. Di lì, a pochi istanti, più tardi, un fiume di gente si è catapultato all'interno del locale di Via Roma, Angolo Via Magenta, teatro dell'episodio, facendo di fatto congelare il traffico. Si tratterebbe, secondo quanto si apprende dalla polizia, di un gruppo di extracomunitari che, assistendo alla scena, si è catapultato all'interno della ricevitoria. Momenti di panico fatti rientrare nel volgere neanche di 60 minuti, in quanto sul posto sono arrivate diverse volanti della polizia del commissariato di Vittoria, che hanno riportato l'ordine pubblico in strada e tra la folla. Gli agenti hanno prestato i primi soccorsi alla vittima e subito lo hanno accompagnato in ospedale. Dopo le visite dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria, la vittima è stata giudicata guaribile nel volgere di sette giorni per un trauma cranico. L'aggressore, invece, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di lesioni personali. E' finito in manette Cristian Basile, 26 anni, pregiudicato. Sono stati carabinieri della compagnia di Ragusa a denunciarle ed arrestarlo per evasione dagli arresti domiciliari dove si trovava per furto e spaccio di sostanze stufe facenti. Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri mentre passeggiava con i suoi cani. Considerato che le condanne a carico di Basile sono state riunite in un unico provvedimento di cumulo pene emesso dal sostituto procuratore Gaetano Scollo, dovrà scontare una pena definitiva di cinque anni e tre mesi di reclusione. Adesso si trova rinchiuso nel carcere di Ragusa. Un'altra casa a luci rosse è stata chiusa dalla polizia di Stato a Ragusa in pieno centro. Sentiamo. E' la sesta casa a luci rosse chiusa nel 2016 sempre nel centro storico ragusano. All'interno dell'abitazione la polizia di Stato ha trovato una donna cinese sposata con un romano e che, come ha detto lei, si prostituiva per problemi economici. 2.000 euro guadagnati in meno di una settimana. Come sempre, sono i residenti del quartiere a segnalare le abitazioni sospette alla polizia, stanchi di avere uomini in cerca di case di appuntamento. I clienti, infatti, non avendo indicazioni precise sul numero civico, contattano la donna che illustra la strada, ma a volte i clienti sbagliano portone. La polizia si è trovata davanti una donna parzialmente nuda, mentre il cliente, sposato, confermava di aver consumato un rapporto sessuale a pagamento per la somma di 50 euro. La donna invece riferiva che a volte faceva sconti, arrivando anche a 30 euro. La casa in cui la donna si prostituiva era in affitto, era stata lasciata da un amico cinese e di conseguenza ha dichiarato di non conoscere il proprietario. La polizia però ha identificato il proprietario della casa, ha dichiarato di averla affittata in nero e che adesso la affiderà ad un'agenzia immobiliare. Il giro d'affari è sempre quello, i prezzi oscillano in base alle richieste del cliente e vanno dalle 50 alle 200 euro. A volte possono anche arrivare a prezzi più alti se si richiede il sesso di gruppo. I controlli della squadra mobile di Ragusa continuano sugli immobili segnalati dai cittadini. E sul fenomeno delle case a luci rosse intervengono i consiglieri comunali del PD Mario Dasta e Mario Chiavola che chiedono all'amministrazione comunale che progetti abbia il comune per riqualificare tutta un'area in cui il degrado sembra aver preso definitivamente il sopravvento. Bisognerebbe collocare aggiungono Dasta e Chiavo le impianti di videosorveglianza lungo la scalinata che da Corso Mazzini conduce a Dibla soltanto così sarebbe possibile elevare gli standard di sicurezza e sorveglianza. Inoltre è necessario si legge ancora nella nota a firma dei due componenti del Partito Democratico predisforre un censimento delle case in centro storico valutare non solo la tipologia legata agli eventuali affitti in nero ma anche le disumani condizioni igienico-sanitarie che portano molti cittadini a vivere in circostanze pietose. E adesso parliamo del comparto edile e le percentuali sono in forte calo. Lancia e Sicilia punta il dito contro il governo Crocetta. In otto mesi solo 64 bandi di gara sono stati pubblicati sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana ovvero meno il 58,71% rispetto ai 155 del 2015. La denuncia arriva da Lancia e Sicilia. I dati manifestano come il settore della costruzione edile sia in forte calo sono dati che destano preoccupazione soprattutto per i livelli occupazionali. Le analisi effettuate dall'osservatorio regionale dell'Ancia e Sicilia rilevano anche il crollo del 45,03% degli importi offerti al mercato. 103,9 milioni di euro a fronte di 189 milioni di euro relativi a gennaio-agosto del 2015. La riduzione continua ancora Lancia sale all'88,32% a confronto con il 2007 l'anno in cui iniziò la crisi quando da gennaio ad agosto furono bandite 818 gare per un totale di 890 milioni di euro. Sono solo due le gare di appalto che hanno superato i 5 milioni di euro in Sicilia. Una riguarda la provincia di Ragusa con il collegamento fra la SS 115 e l'aeroporto di Comiso e l'altra quella del comune di Messina collegamento fra il viale Gazzi e l'approdo delle ferrovie dello Stato si sta assegnando la fine del settore edile ha detto il presidente di Ance Sicilia Santo Cutrone uno dei settori più importanti dell'economia siciliana le imprese e i lavoratori oggi devono sopravvivere solo con il 10% residuo del mercato Cutrone punta il dito contro il governo regionale perché dice colpevole di aver firmato in notevole ritardo il patto per la Sicilia e che a tre anni dalla nuova programmazione comunitaria dei fondi dell'Unione Europea 2014-2020 non ha ancora pubblicato un solo bando a questo si aggiunge anche la lentezza con cui le commissioni espletano le gare ma anche il governo nazionale alle sue colpe dice il presidente Cutrone con la riforma sul codice degli appalti ha imposto un freno alle attività delle stazioni appaltanti costrette a rivedere e ad adeguare procedure e progetti in campo contro il governo Crocetta scende anche Forza Italia con il suo capogruppo a Lars Marco Falcone Crocetta scrive Falcone responsabile di oltre quattro anni di danni perpetrati alla nostra economia un nulla di fatto abissale che si riscontra chiaramente nella crisi sempre più accentuata delle imprese edili se il crollo degli investimenti si coniuga poi con l'aumento della povertà e della disoccupazione ci si rende conto che mai un governo conclude Falcone aveva fatto tanto male alla Sicilia come quello del PD La Fisaskat CISL di Ragusa ha indetto per martedì prossimo l'assemblea sit-in del personale dipendente del punto SNAI di via Archimede a Ragusa la decisione è maturata dopo che la società a seguito del confronto con le organizzazioni sindacali nazionali ha determinato di chiudere o vendere le agenzie dislocate sul territorio siciliano ecco perché affermano il segretario generale della Fisaskat CISL Ragusa Siracusa Venera Carasi e il segretario territoriale Salvatore Scannavino essendo fortemente preoccupati per le ripercussioni che tale modus operandi avrà sui livelli occupazionali si è deciso di proclamare lo stato di agitazione inoltre è stato deciso di proclamare lo sciopero del personale dipendente per l'intero turno di lavoro per mercoledì prossimo sono le 14.39 ci fermiamo per la pausa pubblicitaria ma torniamo subito dopo eccoci tornati in diretta con la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo con l'addio all'estate che a partire dalle 22.30 prenderà vita anche sui nostri canali attraverso una diretta live da Marina di Ragusa condotta da Salvo Larosa e Carmela Minardo con il tradizionale concorso dei fuochi pirotecnici dal porto turistico di Marina di Ragusa si chiude la stagione più bella e spensierata dell'anno ovvero l'estate da anni ormai l'addio l'estate è l'evento che caratterizza la chiusura dell'estate una manifestazione che negli anni è diventata regionale che per l'occasione infatti sono stati tanti visitatori e turisti che raggiungono Marina di Ragusa proprio per assistere i fuochi pirotecnici per l'occasione appuntamenti sono iniziati giovedì scorso con momenti di spettacolo danza e sport e tutto aspettando la serata di oggi per il club della manifestazione la gente inizia a popolare lungomare Andrea Doria e Piazza Duca degli Abruzzi già dal primo pomeriggio alle 7 infatti in Piazza Duca prenderà il via la degustazione dei sapori siciliani a cura di Massimiliano Castro una quota del ricavato andrà in beneficenza alle popolazioni colpite dal terremoto nel centro Italia il tutto allietato dal concerto a cura dell'associazione musicale Armida e dalle 21 in poi l'expo di danza sportiva subito dopo il concerto dei baciamole mani che intratterrà il pubblico presente fino alla mezzanotte quando prenderà il via il concerto dei fuochi pirotecnici in gara a fuochi artificiali tumore e lì a firewax e arte pirotecnica di Giovanni Trabbia e per le tante persone che resteranno a casa le telecamere del gruppo editoriale mediterraneo trasmetteranno in diretta tutto l'evento la conduzione e con il loro intervento porteranno dentro le vostre case i profumi i colori ed i sapori della manifestazione anche per l'addio all'estate sono tante le modalità con cui potete seguirci su video mediterraneo canale 11 del digitale terrestre ed in hd su canale 511 su sicilia sat canale 823 della piattaforma sky per quanti ci seguono all'estero ed ancora in mondo visione sulla diretta streaming videomediterraneo.it potete interagire come sempre telefonando in diretta per i vostri saluti al 3313461565 preceduto dallo 0039 per chi chiama da fuori Italia dunque l'appuntamento è partire dalle 22.30 per la diretta dell'addio all'estate 2016 ultima notizia prima di chiudere una matriciana per amatrice l'iniziativa solidale per aiutare le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia che si svolgerà alle 16 a Pozzallo l'iniziativa si terrà in quattro location differenti in piazza Municipio alla Villa Comunale al Corso Vittorio Veneto e in piazza San Pietro sport, musica e tanto divertimento per grandi e bambini oltre alla vendita di dolci da parte del gruppo Scout dalle 20 in poi in piazza San Pietro un piatto di pasta alla matriciana preparato con ingredienti freschi da uno chef protagonista accompagnato da vino e patatine fritte il tutto allietato dallo spettacolo con il showman Ivano Pierri sono le 14 e 45 minuti non ci sono ulteriori aggiornamenti da parte delle agenzie pertanto questa edizione del nostro telegiornale termina qui grazie per averci scelto e buon weekend cambia ora l'edizione serale di MTG dal 3 ottobre andrà in onda alle 20 e 30 nuova veste grafica nuovi servizi e notizie per un'informazione puntuale e corretta grazie per la visione grazie per la visione